benvenuti alla nostro appuntamento settimanale con economia in quark e io sono alessandro de nicola e come sempre con me ci sono veronica de romanis che saluto e giampaolo galli allora questi giorni che sono passati dall'ultima volta hanno visto un po di notizie dichiarazioni preoccupazioni che provengono sia dal governo che dai commentatori che degli imprenditori piuttosto che dai banchieri e tutto questo ha a che fare sempre con il nostro macigno del debito pubblico e le sue conseguenze una di queste conseguenze è che siamo passati dal spezzeremo le reni alla grecia a la grecia ci ha lasciato alla casella via di monopoli perché per la prima volta dopo tanti anni i mercati valutano debito della grecia più sostenibile del nostro per una serie di motivi che adesso ci dirà veronica e questo è una specie di shock perché la grecia è inutile che raccontiamo qui cosa ha passato negli ultimi anni e oltre a essere uno shock come notizia è fonte di vive viva preoccupazione per noi e quindi sul perché è fonte di viva preoccupazione e cosa possiamo fare ce lo facciamo dire da veronica a te io partirei da una frase il nostro ministro dell'economia giancarlo giorgetti che ha detto che lui ogni mattina si sveglia e ha un problema che è quello di convincere gli investitori a comprare il debito italiano e ha ragione perché noi gli investitori cioè quelli che ci danno i soldi e ci comprano il nostro debito che è arrivato a 2.850 miliardi nel mese di luglio vanno rassicurati vanno rassicurati che il governo sta facendo quello che bisogna fare che l'economia sta crescendo ora in realtà non siamo riusciti molto a rassicurarli e ci lo dimostra un indicatore che si chiama spread che per anni ci hanno raccontato che era un numeretto ce lo ricordiamo durante il conte 1 si diceva ma no non preoccupatevi dello spread è solo un numeretto ora lo spread non è oro colato ma è un buon indicatore della fiducia di chi ci compra il nostro debito pubblico perché misura la differenza tra i rendimenti a dieci anni dei titoli italiani nel caso specifico dello spread italiano con quelli tedeschi ora non la Germania non è sicuramente un paese in questo momento debba essere preso come modello ma sicuramente appunto di vista delle finanze pubbliche è meglio è uno dei paesi messi meglio quindi quando lo spread sale vuol dire che chi investe nel nostro paese vuole essere rassicurato ancora di più e quindi per comprare il debito bisogna offrirgli un rendimento ancora più elevato e questo significa e qui arriviamo alla preoccupazione di Giancarlo Giorgetti spesa per interesse che aumenta e quindi spazi di manovra ancora più ristretti aggiungerei il fatto che lo spread nostro è elevato intorno a 160 165 soprattutto se lo paragoniamo a quello greco come diceva prima Alessandro per tanto tempo la Grecia è stato il paese in crisi e invece se andiamo a guardare il debito greco è stato il debito greco è stato il debito greco intorno a 130 addirittura quando è stato eletto rieletto il premier Mitsotakis si è scesi sotto 120 eppure eppure questo va detto il debito greco continua ad essere ben superiore al nostro cioè oltre 30 35 punti superiore al nostro che è intorno al 140 145 per cento del PIL allora cosa c'è come mai insomma noi ci pensavamo che lo spread fosse legato unicamente al livello di debito pubblico no ci sono almeno tre fattori a tenere presenti uno che il debito greco ha un andamento decrescente cioè oramai da dieci anni scende mentre il nostro dal 2013 è salito due che la crescita per il prossimo bienio greca si attesterà queste sono le previsioni intorno al 2 per cento che è il doppio delle previsioni eh per la crescita eh italiana e forse dovremmo rivederla ancora un pochino a a ribasso tre che come dicevo prima il eh premier Mitsotakis è stato rieletto con un programma molto chiaro continueremo a fare il lavoro che abbiamo iniziato ovvero le riforme e tenere i conti in ordine cioè diciamo che il cambiamento greco che forse all'inizio è stato un po' forzato ma magari qui dedichiamo una puntata se no eh ci vuole troppo tempo dalla troica da eh una dose di austerità che per alcuni è stata troppo pesante insomma questo è poi da discutere però insomma ha cominciato un cambiamento e il premier attuale lo sta portando avanti eh con una popolazione che che lo segue perché vede i frutti ecco questo forse è il suggerimento che se possiamo darlo da da questo nostro programma al governo è cominciare anche noi il nostro cambiamento che invece non abbiamo cominciato perché eh al momento della crisi greca la nostra crisi eh fu diciamo eh così eh affrontata da un governo tecnico quello di Mario Monti non arrivò la troica ma arrivarono i tecnici però bisogna essere anche molto onesti tante riforme sono state annunciate poi non furono fatte a parte quella delle pensioni quindi ora questo governo ha un'opportunità essendo finalmente un governo politico che eh rivendica giustamente il fatto che sia un governo di natura politica e è un governo di legislatura perché questo ci viene ripetuto eh praticamente tutti i giorni bene allora eh il contesto non è del più facile questo va detto l'inflazione continua a essere elevata anche se cala eh i tassi di interesse rimarranno alti eh ancora per un po' in più i margini di manovra questo ce ne parlerà in dettaglio dopo Gian Paolo sono stretti il governo accusa sempre e secondo me fa anche bene anche se tutti sono responsabili diciamoci la verità il centodieci per cento era lasciato un'eredità enorme sui nostri conti pubblici però insomma le eredità di scelte scellerate sono tanti mi viene da da fare l'esempio di quota cento basta leggersi il documento di economia e finanza ma troveremo la stessa tabella nella Nadef che prevede l'andamento della spesa eh pensionistica per i prossimi anni diciamo più a medio o lungo termine beh vediamo che i picchi sono dovuti si arriverà intorno anche oltre il diciassette per cento di spesa previdenziale sul PIL proprio per una misura come quota cento quindi io ritengo che questo governo debba eh fare i conti con una realtà complessa eh forse mettere da parte questo genere come ha fatto già con il super bonus questo genere di chiamarle così eh fantasie di eh introdurre misure che eh alla fine non fanno altro che scassare i conti e soprattutto raccontare forse una storia agli elettori cioè di dire in questa fase è complicato eh però se facciamo quello che dobbiamo fare come eh in questo senso si può prendere il paragone con la Grecia poi avremo eh i frutti eh non tra tantissimo tempo anche in un discreto medio medio termine. È chiaro però a cui concludo che per raccontare una storia bisogna avere un'idea di paese cioè dove pensiamo di stare eh tra quattro, cinque, sei anni dove vogliamo portare il nostro paese e qui davvero c'è una grande confusione perché qual è il paese che ha in mente il governo? Il paese che eh incentiva il profitto oppure tassa quello che eh arbitrariamente decide essere extra? È il paese che vuole crescere e quindi ha messo nel PNRR la riforma della concorrenza oppure è quello che eh tutela le corporazioni. Ecco. Per raccontare una storia serve un'idea di paese e ad oggi devo dire non se ne vede una. Grazie Veronica. Il consiglio è quindi male non fare, paura non avere. E questo magari cominciamo a vederlo dal Nadef che è il documento di economia e finanza, l'aggiornamento del documento di economia e finanza che dovrebbe essere pubblicato dal governo proprio la settimana prossima. E dalla lettura ricaveremo qualche indicazione su quali sono le prossime mosse. E che ne dici tu Gian? Che t'aspetti tu Gian Paolo? Tu che sei un noto ottimista. Dunque intanto credo che sia molto interessante questa faccenda della Grecia e guardare come mai la Grecia è riuscita a avere dei tassi di crescita che ormai da molti anni sono superiori a quelli dell'Italia. Si prevede che il prossimo biennio sia migliore di quello dell'Italia. Ma questo perché dal 2018-2019 la crescita è superiore a quella dell'Italia. È stata inferiore nel 2010-2011 quando si scoprì l'imbroglio famoso sui dati del deficit e del debito greco. È stata poi all'incirca uguale a quella dell'Italia dal 2011 in poi, cioè durante la famosa austerity della Troica più o meno è cresciuta come l'Italia e ci ha battuto negli ultimi anni. Quindi andare a vedere cosa è successo in Grecia. Per quello che riguarda questa legge di bilancio il mio auspicio è che il governo confermi gli obiettivi del documento di economia e finanza. Si sente in questo momento qualcuno che dice eh no ci sono tutti questi crediti d'imposta, aumentiamo il deficit di quest'anno e aumentiamo anche quello dell'anno prossimo. No, eh gli obiettivi che eh il governo si è posto con il DEF sono obiettivi, sono il minimo sindacale. Se noi astraiamo dalla riclassificazione dei crediti indizi che fanno una gran confusione, il saldo primario previsto per il 2023 nel DEF è uno per è un deficit in deficit di uno per cento, esattamente lo stesso valore a consuntivo Istat del 2022. Per il 2024 si prevede un miglioramento di zero cinque quindi da un deficit di uno per cento a un deficit di meno zero cinque che è un miglioramento di dieci miliardi. Nella famosa NADEF dell'anno scorso che fu il biglietto da visita di questo governo e che creò una un feeling positivo con i mercati finanziari. L'aggiustamento nel bienio 2023-2024 avrebbe dovuto essere di 32 miliardi, cioè i 32 miliardi si sono ridotti con un giochetto delle tre carte della storia dei crediti edilizi a 10 miliardi sull'anno prossimo. La riduzione che è prevista del debito pubblico è di 0,7 punti di PIL l'anno prossimo, che si azzera se soltanto la crescita, in sé che essere l'uno e mezzo per cento che aveva previsto il governo un po' ottimisticamente, viene ridotta anche solo all'uno per cento. I tassi di interesse sono più alti, ci sono, ci dicono, diciamo, ci dice Giorgetti, ci dicono altri esponenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ci sono in giro più crediti di quelli che si aspettassero. Questo non è chiarissimo perché, diciamo, quando uno comincia i lavori deve notificarlo all'Enea, quindi da lì si doveva sapere esattamente. Ma supponiamo che questo, che ci siano anche i crediti che si sono, i lavori che si sono fatti dopo il decreto di febbraio, lì effettivamente ci può essere qualche margine di incertezza. Insomma, l'insieme di tutte queste cose, maggiori tassi di interesse, più bassa crescita del PIL, mancate riforme, mancate liberalizzazioni in mercati che non vedono una prospettiva di riforme, a quale quella che è peraltro scritta nel PNRR, beh tutto questo fa sì che la situazione sia molto a rischio. Cioè il rischio è quello che aumenti il debito PIL nel 2023 e soprattutto nel 2024, a patto che non si facciano trucchi, perché un trucchetto è stato quello di ridurre il conto corrente di tesoreria. Cioè invece di emettere titoli, lo Stato, il tesoro, tira sul conto corrente presso la Banca d'Italia che stava a 80-100 miliardi l'anno scorso e adesso sta a 40. Quindi questo è un aggiustamento di 60 miliardi che è enormemente maggiore di tutto quello che si doveva fare, diciamo, con misure vere. Questi sono trucchi che naturalmente i mercati capiscono benissimo e anche l'Unione e la Commissione europea. Quindi l'auspicio, ripeto, è che non si anacquino ulteriormente gli obiettivi del documento di economia e finanza. Non c'entrano niente le regole europee. Quando anche ci fosse una proroga della sospensione delle regole europee per il 2024, cosa improbabile, ma quando anche ci fosse Giorgetti farebbe bene a preoccuparsi molto, che è quello che fa. Grazie, Gian Paolo. Qui è meglio che ci ricordiamo fra tutti noi. Noi siamo europeisti, amiamo l'Europa, a me piace persino Rutte, ma noi questo non lo facciamo né per Rutte, né per Lidner, né per nessun altro. Noi abbiamo bisogno di tenere i conti pubblici, vista la nostra rigidità, per noi stessi, lo facciamo per noi stessi. Meno male che Giorgetti ha detto quella frase, mi preoccupano i mercati, che siamo tutti noi, chiunque di noi ha un BTP anche attraverso un fondo, i mercati siamo noi. Bene, grazie, grazie a Veronica De Romanis, grazie a Gian Paolo Galli.